Abbiamo inaugurato il terzo Festival Danunziano di Pescara, che sta diventando sempre più importante e che quest'anno è particolarmente significativo dopo il Covid, anzi in pieno Covid, con l'incendio sciagurato della Pineta che onoreremo non solo versando il ricavato delle offerte dei cittadini per la ricostruzione della Pineta ma anche portando lì i nostri ospiti importanti a visitarla e a omaggiarla e facendo anche alcuni spettacoli lì andando ancora più a ritroso. Io sono veramente onorato di aver ricevuto questo che è il Delfino d'Oro massima onorificenza della città di Pescara per la quale io provo un affetto forte, ci ho vissuto, ci ho lavorato continuo a venirci e continuerò a venirci ed è una delle mie possibili mete per una vecchiaia lontanissima e felice.